Salve a tutti, benvenuti su questa nuova playlist sul linguaggio di programmazione Perl. Perché ho deciso di portare il Perl come primo linguaggio di programmazione sul mio canale? Prevalentemente perché guardando in rete ho notato che non si trova della documentazione soddisfacente in italiano. Quindi per ovviare a questa mancanza ho deciso di portarlo sul mio canale in modo tale da poter dare l'opportunità a chiunque fosse interessato di poterlo studiare più approfonditamente. L'obiettivo di questo corso è quindi quello di fornirvi delle basi abbastanza solide per poter utilizzare questo linguaggio nella maniera più corretta possibile. Perché scegliere il Perl? Il Perl è un linguaggio che con il tempo è stato messo in ombra da altri linguaggi di scripting, come ad esempio il Python. Generalmente si preferisce quest'ultimo in quanto offre le solite funzionalità del Perl, ma la sua semantica più rigorosa costringe il programmatore a scrivere codice generalmente più leggibile. E dico generalmente perché non è detto che un codice scritto in Perl sia per forza meno leggibile di un codice scritto in Python. Inoltre il paradigma OP, e chi è già del mestiere saprà di cosa parlo, è implementato assai più efficientemente in Python, mentre in Perl sì c'è il supporto della OP però è stato sviluppato in un secondo momento, non è nativo come in Python. Quindi alla luce di ciò, perché scegliere il Perl come linguaggio di programmazione? Oltre che a essere un linguaggio interessante dal punto di vista semantico, ha delle caratteristiche proprie che sono difficilmente riscontrabili in altri linguaggi. Inoltre la sua estrema flessibilità lascia piena libertà al programmatore a differenza del Python. Riassumendo il tutto, io considero Python un Perl con le rotelle. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande e guardiamo subito insieme una breve panoramica sul linguaggio. L'autore è Larry Wall, che è questo simpatico signore con gli occhiali baffi e sorridente in foto. La prima release ufficiale del linguaggio è stata rilasciata nel lontano 1987. Qualche caratteristica tecnica? Il Perl è un linguaggio interpretato. Farò in seguito un breve video di approfondimento in cui spiegherò cos'è un linguaggio interpretato, come funziona e la differenza tra linguaggio interpretato e linguaggio compilato. Il suo campo di utilizzo è General Purpose. Quando sentite parlare di linguaggi General Purpose ci si riferisce a linguaggi che trovano applicazione in più ambiti. Non sono linguaggi strettamente legati a un tipo di applicativo, come potrebbe essere un linguaggio SQL che è strettamente legato a un database. È un linguaggio multiparadigma. Come potrete capire dal nome, un linguaggio multiparadigma è un linguaggio che supporta più paradigmi di programmazione. Anche qua ci vorrà un piccolo video dove spiegherò cos'è un paradigma di programmazione. Per ora comunque vi basti sapere che supporta il paradigma di programmazione funzionale imperativo OP. Breve parentesi sulla OP. La OP sta per Object Oriented Programming. Per ora vi basti sapere questo. Riflessivo e procedurale. È un tipo di linguaggio a tipizzazione debole e dinamica. Debole anzi o dinamica. Anche qua, un piccolo video in cui spiegherò cos'è un linguaggio a tipizzazione debole e cosa è un linguaggio a tipizzazione statica. Il tipo di estensione che deve avere un file Perl per essere correttamente riconosciuto e interpretato è .pl, .t e .pm. È stato influenzato da altri linguaggi di programmazione, tra cui il C, il C++, l'AUC e il SED. E inoltre è un linguaggio in moltipiattaforma. Gira benissimo su Linux, Windows e Mac. Il Perl viene inizialmente concepito come linguaggio ausiliare per sistemisti con l'obiettivo di facilitare la manipolazione di file e di testi. Il nome Perl, quindi, è l'acronimo inverso di Practical Extraction and Report Language. In seguito poi si è evoluto, soprattutto grazie al suo sistema di moduli, assumendo un carattere più generale, general purpose appunto, implementando interazioni con database, manipolazioni di immagini, comunicazioni di rete e altro, e svariate altre cose. Il Perl, infine, viene spesso criticato per essere un linguaggio sporco. Sporco perché la sua estrema elasticità semantica alla fine può intaccare la leggibilità del codice. Tuttavia il Perl non è stato concepito per essere un linguaggio elegante, però pratico. Il suo motto, infatti, è una cosa di questo genere. È TMTOWTDI, che sarebbe l'acronimo di There Most Then One Way To Do It. In italiano c'è più di un modo per farlo. Lo stesso Larry Wall dice che l'obiettivo del Perl è rendere facili le cose facili e possibili le cose difficili. Infine, una piccola curiosità. Come mai vi sto propinando immagini di lama dall'inizio del video? Perché il Perl Book, che sarebbe alla fine la guida del Perl, ha come copertina l'immagine di un lama. E quindi ho deciso di utilizzarlo anche come sfondo per il video di introduzione. Quindi, per questo video è tutto. Ci si vede alla prossima.